I lavoratori rappresentanti sindacali delle aziende VECO di Martinsicuro, che è una fonderia e ATR di Colonnella, che si occupava di fibra di carbonio, marchio storico, dopo le proteste davanti ai cancialli chiusi delle loro aziende nei giorni scorsi, oggi hanno replicato dinanzi alla sede del Consiglio regionale. Assieme ai lavoratori, i sindacati di FIMCISL, FIOMCGL e Wilm Will di Teramo. Una protesta contro l'immobilismo della regione e della politica locale, hanno spiegato i sindacati, su queste vertenze terramane che vanno avanti da tempo. Sono coinvolti 120 lavoratori, 45 dell'AVECO e 75 dell'ATR, che hanno un destino comune, fallimento imprenditoriale e politico, sostengono i sindacati. La fine della cassa integrazione è sempre più vicina e non ci sono al momento spiragli per una ripresa lavorativa o una possibile ricollocazione. Tra marzo e giugno, insomma, i lavoratori riceveranno le lettere di licenziamento. I sindacati hanno predisposto un documento contenente tutte le rivindicazioni. Fuori, durante il Consiglio regionale, con i lavoratori e i sindacati, i consiglieri regionali Paolucci, Blasiole e Pepe, al quale hanno consegnato il documento spiegando la situazione. Chiediamo che cosa intendono fare, visto che in 20 anni tutte le giunte regionali si sono presi impegni di salvaguardare quel territorio e quelle aziende. Di fatto, solo parole. I lavoratori, come sempre, rimangono da soli e non ci sono risposte. Si perdono opportunità, treni, come i finanziamenti e delle risorse che già ci sono, ma soprattutto vogliamo capire veramente se questa politica ha una responsabilità di salvaguardia del patrimonio industriale e professionale del territorio, oppure dobbiamo parlare di altro. Sono in tutto circa 125, 50 i lavoratori dell'Aveco, 75 i lavoratrici e i lavoratori dell'ATR, uniti appunto dal medesimo destino, il fallimento imprenditoriale prima e quello della politica dopo. Siamo in attesa di risposto oramai da anni, ci sono state passerelle, ci sono state promesse che non sono state mantenute. L'ATR, diciamo, dobbiamo ripartire dal 2008, il primo fallimento, al quale poi è seguito il secondo fallimento un anno fa, dal 2020, quindi lo stesso destino dell'Aveco, fallita anch'essa nel 2020 e dimenticata da tutti. Ecco, infatti siamo qui oggi per rimarcare questa cosa. Tra l'altro il paradosso è che sono due aziende che vengono da quattro amministrazioni regionali. Addirittura l'ATR dal 2008 era presidente della regione Ottaviano del Turco. Questo per dire che cosa? Per dire che in quattro amministrazioni regionali nessuno ha smosso qualcosa per far sì che queste due aziende storiche del Terramano venissero salvate. L'ATR Group ha incassato ben due fallimenti e la regione si era impegnata a salvare l'azienda che potenzialmente potrebbe avere una grande capacità produttiva. L'Aveco di fatto è l'unica fonderia abruzzese, altre fonderie hanno acquistato macchinari presenti a Martinsicuro e proposto ai lavoratori di trasferirsi al nord perdendo una grande opportunità per il territorio.